Siamo qui nella sala operativa unificata permanente, anche in questa stagione di prevenzione e lotta agli incendi boschivi siamo pronti con i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i nostri volontari e ovviamente la componente regionale siamo pronti a dare guerra al fuoco che distrugge i nostri boschi. È una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa perché ci saranno alte temperature e ovviamente facciamo appello alle persone affinché si facciano anche loro parte della protezione civile cioè segnalando prontamente al numero unico di emergenza 112 qualsiasi principio di incendio per permetterci di combatterlo ancora prima che diventi un incendio distruttivo quindi controllare un fuoco e non un incendio boschivo. Da qui, dalla sala operativa unificata permanente, vengono gestiti tutti gli incendi boschivi insieme alle componenti della sala operativa stessa. Questo significa gestire la componente a terra, quindi i vigili del fuoco, i nostri volontari che appunto attraverso i mezzi terrestri spengono incendi ma anche la componente aerea attraverso sia gli elicotteri regionali che quelli delle forze di Stato quindi i CADER, gli A64, i mezzi dei vigili del fuoco, i mezzi dell'esercito italiano. Anche quest'anno uno specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale individua il cosiddetto periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi che quest'anno è dal 15 di giugno al 15 di ottobre. In questo periodo vengono delle restrizioni ovviamente proprio per evitare la propagazione degli incendi ed in particolare c'è il divieto assoluto di accendere qualsiasi tipo di fuoco nei pressi dei boschi se non ovviamente espressamente, diciamo così, distante, notevolmente distante dal bosco stesso al limite dei 200 metri. Questo significa che chiunque poi contravviene a queste disposizioni può essere passibile di contravvenzioni ovviamente accertate dall'autorità di pubblica sicurezza e poi ovviamente anche dei danni successivi ad eventuali incendi che dovessero distruggere il nostro patrimonio boschino.